Un via vai ininterrotto di persone di tutte le età oggi all'obitorio dell'ospedale Santissima annunziata di Chieti per salutare Alessandro e Federico Xiu, i fratelli di 14 e 11 anni di nazionalità cinese morti il giorno di Ferragosto ad Ortona mentre facevano il bagno in mare. In tanti si sono stretti attorno al dolore dei familiari. Non vi mostreremo le due bare bianche chiuse e la disperazione dei genitori e dei familiari in segno di rispetto di tanto strazio. Due città sono in lutto, Ortona, dove è avvenuta la tragedia, e Montesilvano, dove la famiglia Xiu risiede da anni e gestisce il negozio sollevante che si trova in corso Umberto. L'ispezione del medico legale Pietro Falco ha confermato che entrambi sono morti per annegamento risucchiati dalle onde del mare di zona Postigli Riccio. La mattina del 15 agosto i coniugi Xiu e i loro tre figli, Alessandro, Federico e Lorenzo, di quattro anni, erano in spiaggia per trascorrere il giorno di festa al mare. Mentre i due fratelli più grandi erano in acqua, si sono accorti che la corrente li stava trascinando lontano dalla riva ed hanno chiesto aiuto. Il padre ha tentato di aiutarli e con lui anche i bagnini degli stabilimenti vicini, ma per i fratelli non c'è stato nulla da fare perché un'onda li ha scaraventati contro gli scogli dove sono stati trovati, dopo un paio di ore di ricerche, dai sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri che hanno recuperato i corpi a poca distanza l'uno dall'altro. Il PM del Tribunale di Chieti, Giancarlo Ciani, ha affidato le indagini ai carabinieri e alla Guardia Costiera di Ortona, guidati rispettivamente dal Maggiore Roberto Ragucci e dal Capitano di Fregata a Giuseppe Marzano. I primi accertamenti hanno escluso responsabilità di terzi, ma la Procura della Repubblica Teatina ha aperto comunque come atto dovuto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Sui social network molte persone hanno inviato messaggi di cordoglio ai familiari e tra i manifesti funebri ci sono anche quelli dei compagni di scuola di Alessandro e Federico, alunni dell'Istituto Comprensivo Villa Verrocchio di Montesilvano e nel cimitero della città adriatica. Dopo il saluto con il rito buddista celebrato all'obitorio oggi pomeriggio alle ore 17 riposeranno i due fratelli.